A Rovetta domenica si terrà la festa della comunità aperta anche ai villeggianti. Sì, nell'ambito dell'attività della pastorale, dei villeggianti, di accoglienza della loro presenza in mezzo a noi, quest'anno avremo la fortuna di avere l'arcivescovo Gaetano Bonicelli e celeberà la messa dalle ore 10.30 presso il parco comunale di Rovetta. È un momento di festa, di comunione, di fere, con grande accoglienza e attenzione le persone che soggiornano per più di due mesi in mezzo a noi. Celeveremo appunto la messa con loro presso il parco, coadiuvati anche dagli amici alpini. Per l'occasione il comune anche interverrà al termine della messa, dando la premiazione alle famiglie che da anni partecipano con grande fedeltà al soggiorno presso la nostra comunità. Il pranzo delle famiglie, della comunità, dei villeggianti per il mezzogiorno e nel pomeriggio l'animazione a cui giochi con i gonfiavoli per i ragazzi e i fanciulli, la tombolata benefica alla conclusione verso 17.30 con l'anguriata con tutti. Un momento bello di amicizia, di festa, di gioia, di fede e anche di attenzione appunto alla presenza di villeggianti in mezzo.